Furto nel distretto sanitario di Pizzoli, consumato, secondo la denuncia, tra il 30 agosto alle 14 e le 11 del giorno successivo. I gnoti si sono introdotti all'interno dell'ufficio CUP del presidio sanitario di Pizzoli, torno in parte, che si trova in via con Lemusino, portando via la cassaforte ancorata al muro, che conteneva, secondo le prime ricostruzioni, circa 600 euro in contanti, frutto del pagamento dei ticket e un fondocassa. Secondo i primi rilievi delle forze dell'ordine, stanno indagando i carabinieri, non ci sarebbero segni di effrazione nella struttura. La struttura, peraltro, non ha neanche un sistema di videosorveglianza, che possa aiutare in qualche modo i carabinieri nelle indagini. Ovviamente i militari hanno ascoltato il personale che opera nella struttura sanitaria, lo stesso personale che da anni chiede maggiori misure di sicurezza.